Per Bresciani sale Martin Vazquez, giocatore che lo ricordiamo è cresciuto nell'area del Martin Vazquez, questo è Lentini, uno dei giovani più promettenti del nostro calcio. Una punta sola di riferimento che è Bresciani e tanti non sono molto stretti quindi hanno la possibilità di sfruttare gli spazi anche negli uno contro uno di sapere. Granata, il controllo operato da Lentini, Lentini l'intervento su di lui di Bieperone calciando un rigore in allenamento più che la palla in quel momento. Lentini, come si fa a fare un colpo di tacco senza guardare e servire l'uomo che sta arrivando? Beh ci tenti, no, si fanno, i grandi campioni, i grandi giocatori lo fanno, sanno anche... Avanza Mussi, su di lui c'è Baggio, poi il tocco per Lentini, giocatore che gioca un po'... Sì, lui è nato come tornante di destra però secondo me nel suo potenziale ci sta di... C'è un intervento anche di Julio Cesar, Lentini, 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 Lentini su di lui, intervento in spaccato...